Ciao ragazzi, benvenuti sul canale YouTube di Benis. Sono Paul Audia, in questo contenuto voglio far ascoltare questa chitarra da collezione, una chitarra vintage, una Gibson Trini Lopez del 1967, con specifiche 1966, tant'è che abbiamo ancora i reflector knobs. Finitura Cherry, una chitarra veramente bella, con un grande feeling, in condizioni veramente pazzesche e ve la farò ascoltare oggi con il Magnaton SL100, una testata appena arrivata in negozio, una testata anche lei da collezione. 100 pezzi di questa testa, questa è la numero 25, handwired, una testata con le EL34, con praticamente un selettore che ci permette di andare dal low al high, quindi lo abbiamo un clean che può anche cranciare se portiamo il gain un po' più su e veramente un high gain di altissima altissima qualità. Mi è capitato poche volte di suonare una testa così bella con uno spettro così incredibile di frequenze. Finitura Anaconda Green, slash signature, una testa che adesso vi farò ascoltare con questa meravigliosa chitarra. Finitura Anaconda Green, slash signature, una testa che adesso vi farò ascoltare con questa meravigliosa chitarra. Finitura Anaconda Green, slash signature, una testa che adesso vi farò ascoltare con questa meraviglia. Finitura Anaconda Green, slash signature, una testa che adesso vi farò ascoltare con questa meraviglia. Finitura Anaconda Green, slash signature, una testa che adesso vi farò aspingle con una testa che adesso vi farò ascoltare con questa meraviglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.